Cari amici, buongiorno, sono Fabio Concato e voglio ricordarvi che il giorno 3, 4, 5 novembre sarò a Napoli al Teatro Troisi per una serata di musica naturalmente, ma anche spero di emozioni e di spensieratezza, di cui abbiamo un bisogno enorme. Come dico sempre, se qualcuno volesse omaggiarci, così, io la butto lì, è così, tanto per dire, omaggiarci con, mi viene in mente, un babà, che ne so, un ufriariel, una pasterella, insomma, noi musici ambulanti ne saremmo molto felici. Adesso, a parte queste stupidaggini, ma comunque insomma, stupidaggini fino a un certo punto, vi aspetto il giorno 3, 4 e 5 novembre a Napoli presso il Teatro Troisi. Un bacio grande a tutti e state bene, molto bene.